E torniamo dunque a scoprire o meglio a conoscere in una maniera anche più approfondita perché Casa Sollievo e le sue eccellenze le abbiamo scoperte da tanto tempo un aspetto molto legato a queste giornate. C'è un osservatorio nazionale sulla salute delle donne che ha già più volte premiato anche Casa Sollievo della sofferenza per quello che fa. Noi siamo particolarmente contenti di dare il benvenuto a due dottoresse che anche loro potevano entrare magari con un bollino speciale del premio, il bollino rosa, la dottoressa Placentino e la dottoressa Santini. Ben arrivate. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Maria Antonietta e Giuliana. Dunque spieghiamo subito questo open week nel quale siamo già immersi. Sì, questa è la settimana contro la violenza sulle donne e quindi grazie alla direzione sanitaria abbiamo aperto le porte alle donne vittime di violenza. Per cui grazie ad un numero dove si può prendere un appuntamento abbiamo la possibilità, grazie all'aiuto delle colleghe della psicologia clinica, di dare ascolto ovviamente e conforto alle donne vittime di violenza. Allora dico subito il numero di telefono perché potete prenotarvi in quanto si va ben oltre la giornata del 25 che è la giornata canonica contro la violenza ma si va fino al giorno 28 per queste visite e per questi incontri soprattutto 0882 410 905. Lo vedremo anche tra poco come grafica, comunque ve lo ripeto 0882 410 905. Come vedete c'è un'ampia pagina proprio sul sito Opera Padre Pio. A volte si cerca a casa sollievo online ma appare giustamente anche in evidenza quest'opera. Lei che è medico del pronto soccorso che cosa ha potuto riscontrare soprattutto negli ultimi anni se qualcosa è cambiato e perché? È cambiato per fortuna direi perché c'è una maggiore consapevolezza da parte delle donne vittime di violenza. È ovvio che sta a noi che accettiamo le donne quando arrivano in pronto soccorso avere anche la sensibilità di capire anche lì dove non dicono perché spesso non dicono per vergogna soprattutto. Grazie alla formazione, grazie all'esperienza, grazie all'empatia a volte quei disturbi che possono apparire come di altra natura e intendo dire la somatizzazione dello stato ansioso, l'insonnia, il mal di testa, il cardiopalmo, cioè la tachicardia, le palpitazioni, nascondono spesso fenomeni di violenza di genere. La dottoressa che è sempre così sorridente già da quando è entrata mi capirà se appunto adesso dal punto di vista della sua specializzazione appunto di psicologa. Io sono incerta su quale domanda farle perché ci sarebbe tantissimo da dire sulle donne in particolare e magari del sud. Cominci lei. Comincio con il dire che appunto le cose stanno cambiando. C'è una presa di consapevolezza da parte delle donne rispetto alla propria condizione, al proprio ruolo che non deve essere necessariamente relegato a quello della casalinga o della madre ma che può essere, può evolversi, può essere nella realizzazione lavorativa e quindi questo porta diciamo ad una presa di posizione diversa dal passato. Non è un'evoluzione a costo zero, è un'evoluzione che poi comporta una reazione da parte di una mentalità che è profondamente maschilista, radicatamente maschilista. Io sento parlare di patriarcato ma la parola non mi soddisfa perché include molte cose. Io parlerei proprio di prevaricazione, di abuso della forza maschile sulla donna per il timore che questa evolvendo si possa in qualche modo mettere in discussione la personalità stessa, il valore dell'uomo. Sì, mettiamo dunque di nuovo in evidenza il numero di telefono perché le dottoresse vi attendono anche immagino con alcune collaboratrici in ospedale 0882410905. E naturalmente, certo, ai tempi in cui il padre Pio ha fondato l'ospedale, parliamoci chiaramente, le donne avevano un'altra immagine e idea di sé. Era naturale per loro fare, come dire, mettere da parte quelle che potevano essere certe loro esigenze o meglio non apparivano neppure alcune idee di autonomia. E anche per quello c'è stata più di una generazione che probabilmente ha visto, sì, la sofferenza per la prevaricazione del maschio, ma era proprio una nicchia perché normalmente erano naturalmente le donne, spesso le prime, appunto, ad avere una cultura che le metteva in secondo piano. Oggi questa cultura, voi riuscite a combatterla o fate altro? No, certamente noi dal punto di vista clinico lavoriamo più sull'aspetto della cura, ma c'è molto da fare e cerchiamo di fare delle iniziative anche dal punto di vista sociale, culturale. Pensiamo e organizziamo anche all'esterno incontri, corsi di formazione con le scuole, con le famiglie, proprio per educare a questo valore, che è quello della parità, del confronto, del confronto alla pari, quindi con le parole, con il dialogo. Questo fa crescere non solo l'uomo, ma anche la donna, perché in alcune frange diciamo la posizione è stata in antitesi o è stata scopiazzando un po' il ruolo dell'uomo, invece la donna può definirsi in una modalità propria, creando una realizzazione... Queste parole sono da scolpire sul marmo. Grazie, mi fa molto piacere che lei condivida questa posizione, perché davvero noi possiamo ristrutturare il nostro ruolo con delle caratteristiche proprie, non necessariamente andando ad emulare quelle che erano le modalità maschili. Senza nulla togliere, ovviamente, questo parlo da un punto di vista più che altro storico, quindi qui è un po' inutile, alle donne che coraggiosamente, per esempio per avere il diritto di voto, per avere altri diritti sul lavoro e quant'altro, non hanno avuto paura a bucare un sistema tutto maschile e lo hanno fatto a volte appunto a discapito anche della loro femminilità. Ma noi viviamo in altro tempo, quindi sarebbe davvero molto grave, credo, se continuassimo a pensare che la revanche sul maschio è quella di fare quello che fa lui. Ma adesso io ti ho prevaricato, caro Toni, ti ho fatto rimanere muto invece... Non volevo, non volevo. Stavo ascoltando, ecco, il tema è complesso, molto importante e credo che lo si accennava solo qualche istante fa, sia di fondamentale importanza, importanza strategica anche l'interazione tra i vari enti, le istituzioni, ecco, come oggi per esempio la dimensione medico-sanitaria interagisce anche con altro tipo di istituzioni oltre la scuola, dove penso comunque sia importante gettare quel seme di educazione al rispetto dei vari ruoli, delle varie figure. Già da molti anni noi facciamo parte di quello che è chiamato Progetto Giada, è stato lanciato questo progetto dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, che ha coinvolto varie figure istituzionali, quindi le ASL e poi le associazioni, quindi successivamente sono nati CAV, che sono i centri antiviolenza, quindi è stata presa posizione poi da parte delle regioni in merito a questo. Noi abbiamo, quindi, lavoriamo in rete, perché la rete è il valore aggiunto. In questo modo noi ospedalieri, per esempio, accogliendo la donna che poi deve essere allontanata dalla situazione di pericolo, possiamo contattare i CAV, le strutture di accoglienza e quindi favorire poi questo processo di emancipazione, di fuoriuscita dalla situazione problematica. Dottore Santini, io vorrei tornare con lei alla concretezza del singolo caso. Ci può raccontare qualche vicenda? Bene, avremmo tante da raccontare. Quest'estate, per esempio, c'è stato il caso di una ragazza che purtroppo è stata vittima di violenza di gruppo, è stata drogata, portata in un alloggio disabitato e lì è stata violentata da diversi uomini per tutta la notte. Oppure posso raccontare il caso di poche settimane fa di una ragazza che era venuta in pronto soccorso per due giorni di seguito. Parlavamo prima di somatizzazione di stato d'ansia. Il primo giorno era venuta per dolori addominali e il secondo giorno invece per cefalea. Al momento della dimissione la ragazza ha avuto un attacco di panico. Allora io l'ho presa in disparte. È importante allontanare le persone vittime di violenza da orecchie e occhi indiscreti. Sappiamo tutti che il pronto soccorso è ovviamente un porto di mare. Invece ci vuole calma, riservatezza, empatia, sospensione del giudizio soprattutto. E sono riuscita a farmi spiegare dalla ragazza il motivo per cui lei non voleva ritornare a casa. Era in preda a un attacco di panico e mi ha raccontato una storia di violenza. Lei ha avuto modo anche di conoscere quello che è accaduto dopo, certe vicende terribili. C'è stata giustizia? In alcuni casi sicuramente. Siamo state anche ascoltate in tribunale come ovviamente test, perché la nostra testimonianza ovviamente è agli atti. Quindi è importante. Per altri casi non sempre le ragazze vittime di violenza poi hanno il coraggio anche di denunciare. Vuoi perché hanno paura spesso di magari, se hanno dei figli, di essere allontanati dai bambini. Vuoi perché magari non hanno la sicurezza economica per poter poi proseguire nella strada da sole. Noi vogliamo ricordare che tra l'altro nei CAV c'è la possibilità del patrocinio gratuito, per cui queste donne se hanno necessità e voglia di intraprendere questo percorso di riscatto, vengono affiancate anche dagli avvocati un patrocinio gratuito appunto, cioè senza pagare nulla. Io oltre a ringraziarvi ovviamente vorrei tornare a fare un appello perché tutte le persone che finora non hanno avuto la forza di rivolgersi a nessuno e si tengono il dolore dentro, a cercare appunto non solo attraverso questo numero che state vedendo ma anche attraverso i centri antiviolenza, attraverso magari le pieghe di una conversazione con una persona che potrebbe anche non essere una persona cara, perché non sempre i familiari aiutano in queste situazioni. Noi siamo a disposizione, quindi qualsiasi... Volete fare voi stesse un appello guardando in camera le persone che potrebbero in questo momento cambiare la loro vita grazie a voi? Sì, noi siamo a disposizione di tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo questi maltrattamenti. Noi siamo a loro disposizione, abbiamo voglia di aiutarle e come dicevo prima non devono sentirsi giudicate perché non tocca a noi stabilire la veridicità del racconto che ci stanno facendo. Siamo a disposizione e quindi se volessero abbiamo questa possibilità. Il numero che mandiamo in onda è il numero diretto della psicologia clinica. Quindi chiamando potrete prendere un appuntamento direttamente con noi, con me e altre tre colleghe che sono a disposizione per tutta la settimana per questo servizio. Le decisioni prese possono essere cambiate, quindi non è detto che poi questo significhi per forza dover intraprendere un percorso di denunce o altro, ma è semplicemente un luogo sicuro nel quale chiedere aiuto, chiarirsi, affrontare dei dubbi, poter effettuare poi una visita medica eventualmente o anche ginecologica. Quindi noi siamo a disposizione, venite e poi potremmo prendere tutte le decisioni insieme per mano. Ecco, io direi Tony, in questo nostro mondo in cui tante cose sembrano peggiori di come erano prima, invece in questi ambiti le cose sono veramente qualitativamente molto, molto migliori. Ve ne siamo tutti molto grati. Assolutamente sì, è stato davvero un piacere avervi qui con noi stamattina per rilanciare messaggi di così grande importanza e per sottolineare il prezioso lavoro che fate quotidianamente. E naturalmente un abbraccio a tutti coloro che lavorano nell'opera di Padre Pio, a tutte le persone che vi sono ricoverate e che non godono di ottime condizioni di salute, e sia pure con rammarico perché ci sarebbero tante altre cose da chiedere e da sapere dalle nostre dottoresse. Adesso è il momento di dare la linea alla regia.